Va componendosi il mosaico delle panchine e delle abruzzesi di Serie D. L'ultima casella riempita in ordine cronologico è quella del Giulianova che ieri sera ha annunciato l'arrivo del suo nuovo allenatore. Si tratta di Carlo Pascucci, 53enne romano, lo scorso anno ha guidato il Latina nel girone G di Serie D e da calciatore è stato difensore tra le altre squadre di Lucchese, Ascoli e San Benedettese. Pascucci ha rilasciato anche le prime dichiarazioni sui profili social del Giulianova. Sono onorato di essere approdato in una piazza prestigiosa come Giulianova che vive da sempre di calcio e per il calcio. Conosco il Rubens Fadini e so che potrà essere l'arma in più della nostra squadra, un ambiente caldo e competente che ci spingerà a fare bene. Con Pascucci il presidente Luciano Bartolini vuole dare nuovo impulso al suo ciclo presidenziale, forte anche delle rassicurazioni avute dal neosindaco Ivan Costantini, molto vicino alle sorti dello sport, delle principali realtà che lo rappresentano, tra cui appunto il Real Giulianova. E' forte anche degli incontri avuti con alcuni imprenditori negli ultimi giorni. Già sistemate altre quattro panchine, un nome di grande prestigio a Vasto dove tocca a Marco Amelia, l'ex portiere di Livorno, Genoa, Palermo e Milan, oltre che campione del mondo con gli azzurri nel 2006. Amelia lo scorso anno ha fatto il suo debutto da allenatore in Serie D alla Lupa Roma. Domani alle 19.30 allo Stadio Aragona Amelia sarà presentato a stampa e tifosi assieme all'intera dirigenza della Vastese. Ad Avezzano già ad inizio mese era stato presentato il nuovo allenatore Stefano De Angelis, ex tecnico della Primavera del Cosenza, anche egli di origini romane, fa parte del programma di rinnovamento varato dal presidente D'Alessandro, che ha nominato DG Mauro Traini e ha occupato la casera di S con Paolo Staffa. Un pineto sempre più ambizioso ha da tempo scelto Massimo Epifani, voglioso di riscatto dopo le parentesi in B al Pescara e in C al Fano, mentre a notaresco il nuovo tecnico è l'ex Castelfidardo Roberto Vagnoni. Proprio a notaresco il presidente Salvatore Di Giovanni deve mettere mano a una ricostruzione dell'intera struttura tecnica con gli ex allenatore Cudini e DS De Angelis, diretti a Campobasso, dove porteranno con loro diversi giocatori importanti dell'ultima stagione. E con il segretario Massimo Spinozzi in procinto di andare a Teramo, ricostruzione che partirà con il reinserimento nei quadri di Alfredo Natali, quale direttore sportivo. Panchine vuote a Chieti e Francavilla e non è un caso, visti i grandi interrogativi societari. A Francavilla Gilberto Candeloro ha detto basta, l'imprenditore frentano attende di conoscere il suo successore e mal che vada potrebbe garantire l'iscrizione alla prossima Serie D, ma poi il progetto tecnico dovrà essere varato da una nuova proprietà. Tra i potenziali gruppi entranti, uno farebbe capo a Mauro Schiappa e Luigi Di Battista, soci appena usciti dalla compagine sociale della Teramo Calcio. A Chieti attende News il tecnico della promozione in D, Alessandro Lucarelli, ma la carella societaria, col presidente Di Giovanni alle prese, con trattative farraginose, con gli imprenditori Trevisan da una parte e Di Stefano dall'altra, ferma tutto. Un vero e proprio caos che fa dilatare pericolosamente i tempi.